Un italiano di 21 anni, di Fiorano Canavese, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Ivrea per detenzione ai fini di spaccio di droga. A casa del giovane i militari dell'arma hanno trovato circa 300 grammi di marijuana suddivisi in tre buste, un bilancino di precisione e un telefono cellulare, utilizzato per contattare e per essere contattato dai clienti. Il pusher, che molto probabilmente spacciava in casa H24, è stato arrestato e collocato ai domiciliari. La droga è stata sequestrata.